Eccoci qua, buonasera mister, volevo chiederti, più rammaricato per il gol preso all'ultimo respiro o più contento per la sontuosa prestazione del Napoli qui al Parco dei Principi? Tutte e due, la partita è stata molto buona e credo che per lo sforzo fatto avremmo meritato di vincere, però si sa, giocare contro Paris Saint-Germain a giocatori di talmente tanta qualità che basta un attimo che ti possano castigare e così è successo. Ma come ho detto non credo che non cambia molto, adesso abbiamo una grande occasione di giocare la stessa partita in casa e speriamo che salti fuori la stessa partita. Gorilla Rai Ti aspettavi questo Paris Saint-Germain o sei stato talmente bravo tu e la tua squadra a riuscire a soffocarne le iniziative e soprattutto il grande attacco? No, ma sì, me l'aspettavo, credo che si sono stati molto bravi nell'evitare che potessero giocare in campo aperto, solo in due o tre occasioni, hanno sfruttato molto bene il contropiede, sono stati molto pericolosi, per il resto si sono stati molto compatti e con un buon possesso, soprattutto nella prima parte, abbiamo gestito bene il ritmo della partita che era quello che ci interessava. Canale 21 Mister, ieri alla vigilia dicevamo che il Napoli nel quadro psicologico arrivava meglio del Paris Saint-Germain, il campo ha dimostrato in effetti l'assunto, complimenti davvero. Cos'è che le è piaciuto di più questa sera della sua squadra? Cosa non le è piaciuto invece? Su cosa bisogna fare quel salto di qualità per ucciderle queste partite? E poi Lorenzo Insigne, come sta? Sì, ha preso un colpo alla fine del primo tempo, faceva fatica a respirare, ha provato a giocare la seconda parte, mi aveva fastidio, allora l'ho tolto. Il salto di qualità si fa mantenendo la continuità, il coraggio, la personalità che abbiamo mostrato contro una squadra che è tra le migliori d'Europa e lo abbiamo fatto con grande personalità. Il miglioramento viene con la continuità e con la consapevolezza delle nostre possibilità. Collega francese, credo. Sì, buonasera all'equipe. Carlo, è stato sorpreso dal livello di gioco del PSG, vi aspettavate un PSG più forte con più carattere a domicilio? Il Paris Saint-Germain è una squadra forte, molto forte, ha giocatori fantastici. Penso che noi siamo riusciti a contenere un po' la performance nel primo e nel secondo tempo, poi nel secondo tempo il PSG ha cambiato il sistema e abbiamo avuto qualche difficoltà in più, soprattutto nel primo periodo del secondo tempo. Nessuna sorpresa, è una squadra molto pericolosa. Carlo, abbiamo visto un Napoli organizzato in campo e dietro abbiamo visto la buona difesa italiana, abbiamo visto Koulibaly, forse è arrivato, ha fatto un passo in avanti. Koulibaly è un grande difensore, oggi, lo era già l'anno scorso e lo sarà un grande difensore anche in futuro. Sì, la parola è Troisi. Diceva che cambieremo qualcosa, è una strategia rispetto a Liverpool, ha mantenuto la difesa a tre in fase di costruzione, ma Insigne e Fabio Ruiz hanno lavorato molto tra le linee. È stata quella la mossa che l'ha portata a un soffio dalla vittoria e poi l'ha confermata anche con Zielinski, quindi ci ha creduto fino alla fine. No, abbiamo iniziato con i tre, dopo quando il Paris Saint-Germain ha cambiato il sistema, nella seconda parte abbiamo aperto un po' di più Maximovic per avere più superiorità sulle fasce. Nel primo tempo la superiorità era solo a sinistra e abbiamo appoggiato molto il gioco su Mario Rui, perché lì avevano più difficoltà nella copertura. Lecchie, scusi? Andrea Schettino, Info Napoli 24. Buonasera mister, alla vigilia della gara con Liverpool disse che questa squadra poteva fare un salto di qualità se riusciva a gestire i momenti delicati della gara. Considerando i primi minuti del primo tempo e del secondo tempo, è soddisfatto da questo punto di vista della sua squadra? Quando viene a giocare qua non è che puoi pensare che per 90 minuti tutto va bene, tutto è tranquillo, hai momenti di sofferenza, come è stato all'inizio, lo abbiamo fatto un po' timoroso, come è stata la seconda parte, quando per un problema di strategia avevamo più difficoltà nel possesso, ma credo che è inevitabile avere dei momenti di difficoltà quando giochi contro questi giocatori e devo dire che nonostante quello sono stati gestiti bene ed è venuta fuori una partita che si meritava di vincere. Bene, grazie e buonanotte. Grazie a tutti.